Una maxidiscarica abusiva da cate contenente 20 tonnellate di rifiuti speciali pericolose è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza, in particolare sono stati rinvenuti materiali di scarto provenienti dall'agricoltura. Stamattina una protesta di giovani migranti si è registrata al centro di accoglienza per minori non accompagnati di Contrada Grambacorta a Scicli, sui posti carabinieri della compagnia di Modica. A due giorni dai risultati delle elezioni regionali si tirano le somme del voto e si fa il punto della situazione, il neogovernatore nell'Omusumeci ha preso tre giorni di pausa prima di mettersi al lavoro per impostare la squadra di governo. A Scicli sono stati estirpati gli alberi in prossimità del campo sportivo scapellato, sono stati ripiantumati sempre nel quartiere di Iungi, il lavoro è stato curato dall'associazione Primo Maggio. L'associazione Modicana, Franco Ruta, rivolge un appello alla Giunta per chiedere che venga ritirata la delibera dello scorso 23 ottobre che prevede la distruzione dell'emeroteca per l'amministrazione obsoleta e mal conservata. Buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione di Canale 74. Una maxidiscarica abusiva da cate contenente 20 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. In particolare sono stati rinvenuti materiali di scarto provenienti dall'agricoltura. Le riemme gialle del Comando Provinciale di Ragusa nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio hanno sequestrato un'area di oltre 10.000 metri quadrati adibita a discarica abusiva contenente oltre 20 tonnellate di rifiuti pericolosi. L'attività è stata svolta dai finanzieri della Compagnia di Vittoria e quali durante una perlustrazione nell'agro di Acate lungo la strada provinciale 91 hanno scoperto nei pressi di un'azienda agricola una vera e propria discarica a cielo aperto contenente numerosi rifiuti abbandonati sul suolo, non impermeabilizzato e quindi non conseguente il rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. In particolare sono stati rinvenuti imballaggi in plastica, rifiuti organici, vaschette di polistirolo e matasse di nylon, tutti materiali di scarto provenienti dall'agricoltura in serra potenzialmente contaminati da prodotti fitosanitari e quindi altamente inquinanti e pericolosi. In alcune aree del sito sono stati scoperti numerosi accumuli di materiale vario incenerito, successivamente coperto da strati terrosi in modo tale da non rendere visibile lo stoccaggio abusivo. Inoltre il sopralluogo ha permesso di appurare diverso colore e stato di degradazione dei rifiuti dovuto alla maggiore esposizione agli agenti atmosferici, nonché l'odore di bruciato ancora molto intenso in alcune parti del sito, una vera e propria attività illecita strutturata al fine di risparmiare sui rilevanti, ma imprescindibili, costi di smaltimento dei rifiuti speciali secondo la normativa vigente. Per questi motivi sono stati ipotizzati a carico dell'amministratore dell'azienda agricola gli ecoreati di realizzazione e gestione di discarica abusiva, nonché di combustione illecita dei rifiuti. E sono in corso ulteriori accertamenti disposti dalla locale autorità giudiziaria al fine di individuare tutti i responsabili di tale disastro ambientale. Stamattina una protesta di extracomunitari si è registrata al centro di accoglienza per minori non accompagnati di Contrada Gambacorta Scicli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modica. Una massiccia presenza di carabinieri nel centro di prima accoglienza per minori non accompagnati di Contrada Gambacorta Scicli questa mattina. Da qualche ora è infatti in corso una protesta da parte degli immigrati che si trovano nella struttura aperta qualche mese fa. Alla base della protesta appare ci sia la constatazione da parte dei giovani residenti della lentezza nel disbrigo delle pratiche per ottenere i documenti per la richiesta d'asilo. Le lamentele sarebbero anche per il cibo e per le condizioni igieniche della struttura e le difficoltà di convivenza tra le diverse etnie. Alcuni di loro per questi motivi vorrebbero essere trasferiti in altri centri di accoglienza magari fuori regione. Questa mattina i minori non volevano far entrare gli operatori e solo grazie all'intervento dei mediatori culturali si è riuscito a trovare un dialogo e a stemperare gli animi. Effettivamente i tempi burocratici per ottenere documenti per la richiesta d'asilo sono molto lunghi ma si deve tener conto che gli operatori che lavorano all'interno della struttura sono anche impegnati a produrre gli altri documenti per ottenere i servizi sanitari e scolastici per i giovani immigrati. Inoltre sono anche impegnati durante gli sbarchi. La situazione comunque al momento pare sia sotto controllo. I carabinieri rimarranno sul posto sino a quando gli animi si calmeranno del tutto. E la polizia locale di Modica ha sequestrato un'area abusiva incontrata a Museppi adibita a parcheggio di mezzi pesanti. Sono stati deferiti per il reato di abusivismo edilizio due coniugi cinquantenni. L'area di proprietà della donna era utilizzata da una società modicana il cui rappresentante legale è proprio il marito della stessa. Un'area adibita a parcheggio per automezzi pesanti risultata senza i necessari permessi è quanto scoperto dalla polizia locale di Modica con il gruppo del NOPE, il nucleo operativo di polizia edilizia. Deferiti per reati legati all'abusivismo edilizio, al vincolo della sovrintendenza ai beni culturali e a quelli di natura ambientale due coniugi di Modica. Nel corso di appositi controlli la polizia locale attraverso il NOPE ha accertato che un'area di proprietà di una donna di 52 anni incontrata a Musebbi era stata adibita a parcheggio di automezzi pesanti nella fattispecie di una società modicana che opera nel settore del trasporto merci su gomma per conto terzi, il cui legale rappresentante è il marito cinquantenne della proprietaria attraverso la stipula di un contratto di comodato del terreno. Nei luoghi era già stato realizzato un fabbricato rustico la cui concessione peraltro è risultata scaduta. Il nucleo operativo di polizia edilizia ha constatato inoltre che i due avevano realizzato in concorso tra loro opere edilizie abusive nella stessa località sottoposta tra l'altro a vincolo paesaggistico in difformità alle previsioni progettuali opere interrate di muratura da destinare al servizio di un autolavaggio privato e dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento ancora da completare. Di recente avevano anche proceduto alla posa in opera di una base di pavimentazione con strato di materiale misso granulometrico in ampiamento dello stesso parcheggio. È stato tuttavia anche accertato che veniva effettuato uno scarico delle acque refle industriali derivanti dalle acque di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle superfici scoperte proprio della stessa area di parcheggio in relazione anche alla mancanza proprio di un sistema di raccolta e di trattamento delle stesse acque. Il cadavere di un neonato è arrivato questa mattina al porto di Pozzallo insieme ad altri 58 migranti. Ieri erano già arrivati altri 4 cadaveri, si tratta di una donna e 3 uomini. Dopo l'ispezione cadaverica da parte del medico legale, 3 salme sono state trasferite nell'obitorio di Scicli e una nella sala mortuaria dell'ospedale di Modica. E ora cambiamo argomento, torniamo ad occuparci delle elezioni regionali. A due giorni dai risultati si tirano le somme del voto. Il neo governatore Nello Musumeci si è preso tre giorni di pausa prima di entrare nel merito e di iniziare i lavori per la squadra di governo. A due giorni dai risultati delle elezioni regionali iniziano a tirarsi le somme di un voto che come più volte detto non ha riservato molte sorprese, anche se in realtà qualche colpo di scena non è mancato, a partire dall'elezione di Stefano Campo che sancisce il grande successo del Movimento 5 Stelle a Ragusa. Molti ricorderanno che la Campo è la componente dell'amministrazione Piccitto, poi allontanata dal sindaco per i presunti conflitti di interesse. Secondo alcuni analisti della politica, l'espluato di Stefano Campo potrebbe rappresentare un largo consenso al Movimento 5 Stelle, ma non al sindaco Piccitto che in queste elezioni non avrebbe appoggiato la candidata ragusana. Uno dei più delusi è sicuramente il senatore di Forza Italia Giovanni Mauro, che gioisce per la formazione del partito, ma che sicuramente si sarebbe aspettato di più dalla sua Ragusa. Adesso per Mauro molti si attendono un assessorato regionale. In alcuni quotidiani il commissario provinciale di Forza Italia è dato come papabile per un assessorato nonostante non abbia ottenuto un seggio, ma adesso occorrerà vedere la risposta di musulmesi alle proposte avanzate dai partiti per creare la giunta di governo. Intanto il neo governatore ha chiesto tre giorni di pausa prima del lavoro per riordinare le idee e combattere un attacco patologico subito dal suo agrumeto di Militello Val di Catania. Il leader catanese ieri a porta a porta ha dichiarato quello che poi ha detto durante la campagna elettorale, ovvero che il suo obiettivo è quello di dare una svolta alla regione, pretendendo di avere le mani libere. Per questo riparà in carica solo cinque anni senza l'ambizione di ricandidarsi, per non correre il rischio di poter essere in qualche modo vincolato a compromessi e accordi finalizzati ad una seconda elezione. Musumeci vuole partire dai dirigenti, cacciare quelli che non hanno voglia di far niente, bonificare una regione bloccata da quanti continuano a non voler far nulla. Sicuramente è un ottimo punto di partenza, un ottimo presupposto. Si sa bene che toccare l'apparato burocratico non è cosa semplice, ma se si riesce a farlo sarà certamente un'azione rivoluzionaria per la Sicilia. Il centro studi della CGL Sicilia con l'Istat hanno condotto uno studio sulla situazione sociale ed economica del territorio ebleo e regionale degli ultimi otto anni. Un'analisi sull'età media, sulla natalità e mortalità, sulla presenza degli stranieri, sull'occupazione e gli investimenti che hanno caratterizzato questi anni facendo una previsione fino al 2060. Un focus economico di otto anni inerente al periodo 2008-2016 sull'ex provincia di Ragusa è lo studio condotto dal centro studi CGL Sicilia con l'Istat, studio presentato durante la conferenza stampa che si è svolta ieri mattina nella sede della CGL di Ragusa. L'analisi che oltre a Ragusa riguarda tutte le province siciliane fornisce un quadro del contesto regionale è di fatto una radiografia della situazione socio-economica del territorio a partire dall'aumento dell'età media, 33 anni dei locali rispetto ai 31 anni degli stranieri. Quest'ultima come anche la popolazione, la natalità e la mortalità, i migranti residenti, il mercato del lavoro, la produzione, il settore turistico, agricolo, le infrastrutture, l'evasione fiscale e la proiezione sull'età media sino al 2060 sono stati oggetto dell'analisi. Difatti diminuisce la popolazione 0-14 anni dal 16 al 14,7% e aumenta la fascia over 65 che guadagna un punto percentuale dal 18,5 al 19,6%. Dunque, mentre nel 2008 ogni 100 giovani dai 0-14 anni vi erano 116 over 65, nel 2016 sono diventati 133 e la previsione poi per il 2060 è quella di un indice di vecchiaia stimabile intorno al 300 over 65 per ogni 100 giovani. Aumento dell'anzianità, compensato dagli stranieri, presenza ben radicata ed integrata tanto da costituire società miste. Dal 1 gennaio 2017 infatti la presenza degli stranieri ha registrato una crescita del 65% rispetto al 2012. La provincia registra per un rapporto popolazione-stranieri pari all'8,6% in provincia del 3,7% in Sicilia. In Sicilia c'è un problema occupazionale enorme, ha commentato Giuseppe Citarella, presidente del centro studi. Anche se in provincia il dato è meno sconfortante perché si continua a cercare lavoro non perdendo la fiducia e registrando un aumento del tasso di attività, che tra persone occupate e quelle in cerca di occupazione è intorno al 59%, circa 8 punti in più rispetto al dato regionale e 6 punti in meno rispetto alla media nazionale. A fronte della perdita di posti in agricoltura e anche nel comparto delle costruzioni e dei servizi si registra l'aumento in quelli legati al turismo, alla ristorazione e al settore alberghiero. Nel 2016 l'Istat ha certificato una presenza di oltre 1.260.000 turisti, con un incremento del 48% rispetto all'anno precedente. Dato sconfortante è il calo degli investimenti, circa il 50% in meno e dei consumi con un meno 12%. Priorità è la creazione di infrastrutture che da sole potrebbero determinare un decisivo punto di svolta. Infatti si registra un peggioramento dell'indice relativo a strade, autostrade e rete ferroviaria. Mentre in ripresa è l'export del prodotto manifatturiero. Lo studio sarà oggetto di una pubblicazione che sarà distribuita a dicembre. In Sicilia, asserito Michele Pagliario, segretario generale della CGL Sicilia, si sono persi 120.000 posti di lavoro. Oggi non c'è ancora un progetto politico che sappia dare risposta a questo stato di cose. Si spera che le cose cambino, bisogna puntare sulle risorse giovanili ed evitare che migrino in Europa. Per quanto attiene l'evasione fiscale, i contribuenti sono stati più di 200.000. A Ragusa, a fronte di 100 euro dichiarati, i consumi sono stati pari a 137 euro. Si può stimare un'evasione intorno a 152 milioni di euro ed in Sicilia oltre a 3 miliardi di euro. Il focus, sottolinea, ha commentato Peppe Scifo, segretario generale della CGL Ragusa, come la forbice tra nord e sud, si è ancora una volta allargata. La provincia ne esce fuori con luce ed ombre e su quest'ultima dovremmo produrre un impegno straordinario per la costruzione di modelli correttivi che risolvono i punti di crisi. E a Scicli sono stati estirpati gli alberi in prossimità del campo sportivo scapellato e sono stati ripiantumati sempre nel quartiere Iungi. Il lavoro è stato curato dall'Associazione Primo Maggio. Interessante iniziativa da parte dell'Associazione Primo Maggio del quartiere Iungi che ha in gestione questo bel piazzale e cura l'area verde. Nel piano di riqualificazione del campo sportivo di Scicli sono stati espiantati degli alberi di ulivi e per loro carico hanno pensato di ripiantarli qua. Ne parliamo con il Presidente Paolino Gambuzza. Allora Presidente, simpatica iniziativa, voi tenete alla salvaguardia del verde, in altro caso sarebbero stati distrutti questi alberi, invece voi avete pensato di ripiantarli. Come mai questa iniziativa? L'iniziativa è chiara, è tonta, si capisce subito. È un'iniziativa che parte qui dalla volontà degli associati del primo maggio e contemporaneamente anche per la volontà dell'amministrazione comunale di Scicli. Anche l'impresa Lucianello Mormina ci ha dato una mano a sistemare questi alberi che sono messi qua perché sono state espiantate al ciccio scapellato e le abbiamo messe qua affinché non si allontanassero tanto dal quartiere per rimanere sempre nella stessa zona. Tutta questa è l'iniziativa. L'associazione modicana Franco Ruta rivolge un appello all'amministrazione di Modica per chiedere che venga ritirata la delibera di giunta dello scorso 23 ottobre che prevede la distruzione dell'emeroteca cittadina. La parte dell'amministrazione, l'emeroteca è obsoleta e mal conservata. L'associazione Franco Ruta interviene con fermezza in merito alla delibera di giunta 272 dello scorso 23 ottobre per rivolgere un appello al sindaco di Modica Ignazio Abate e all'assessore alla cultura Orazio Di Giacomo. La delibera prevede infatti di mandare al macero tutti i quotidiani locali, in particolare la Sicilia, il giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud oltre al Corriere della Sera la Gazzetta Ufficiale dal 1985 al 2005 determinando così la cancellazione con un colpo di spugna di un patrimonio prezioso della memoria cittadina che così come scrive il presidente dell'associazione Antonello Buscema, ex sindaco di Modica, nessuno avrà più la possibilità di consultare i fini di ricerca e che non potranno più aiutare a ricostruire l'ultimo ventennio cosa è stata la città di Modica, quali accadimenti ne hanno contraddistinto la storia, a cominciare proprio dai processi politici, istituzionali, culturali di cui solo la cronaca quotidiana può essere puntuale e meticolosa testimone. L'associazione fa un appello al sindaco e all'assessore nella speranza di essere ancora in tempo per fermare tutto questo. Distruggere l'archivio significa far venire meno palesemente lo scopo e la funzione di un'emeroteca civica, scrive ancora Buscema che è proprio quello, come suggerisce la stessa etimologia del termine, di custodire la memoria collettiva attraverso la microstoria utile a ricostruire la grande storia. Da parte sua l'aggiunta ha ritenuto opportuna la delibera in quanto il materiale cartaceo in oggetto sarebbe logoro, obsoleto e non più rispondente alle finalità proprie del servizio della biblioteca pubblica, così come riportato. Nella missiva il presidente dell'associazione Franco Ruta ricorda come la biblioteca comunale di Modica, di cui l'emeroteca fa parte e chiusa da oltre un decennio e che pertanto è stato impossibile per l'utenza esprimere concretamente alcun interesse per l'archivio da essa custodito, come numerose realtà associative della città fanno notare a gran voce da mesi, sollecitando il trasferimento dei volumi e dei giornali a Palazzo Moncada e la riapertura al pubblico del servizio. Allo stesso tempo, secondo Buscema, non può ricadere su altri l'eventuale responsabilità del fatto che in questi anni il servizio biblioteca non si sia curato di verificare lo stato di conservazione dei quotidiani e di segnalarlo all'amministrazione affinché provvedesse, come siamo certi che invece avrebbe fatto, scrive disponendone lo spostamento in un luogo più adeguato e perché no ad avviare un percorso diverso di conservazione, trovando ad esempio le risorse per un'attività di digitalizzazione capace di sottrarre per sempre alle minacce del tempo questa fragilissima parte dell'archivio. Se la vera ragione della distruzione dei giornali è il fatto che siano mal conservati, si dica questo e si trovi un rimedio, anziché nascondersi dietro un presunto scarso interesse, sancisce con fermezza Buscema, che continua chiedendo l'immediato ritiro della delibera in oggetto e alla sua sostituzione con una che al contrario dimostri l'interesse dell'amministrazione a salvare questo patrimonio, a promuoverne la catalogazione e la consultazione e perché no una più ampia possibilità di fruizione, suscitando nei giovani innanzitutto l'interesse alla riscoperta del recente passato della città. E' chiaro buio il titolo della mostra del maestro Salvatore Fratantonio che sarà inaugurata il prossimo 18 novembre a Ragusa nei locali della Camera di Commercio. La mostra, che è patrocinata dalla stessa Camera di Commercio ragusana, sarà allestita fino al 10 dicembre. Sarà inaugurata il prossimo 18 novembre la mostra del maestro modicano Salvatore Fratantonio dal titolo chiaro buio, nella sala Pippo Tumino alla Camera di Commercio ragusana in via Natalelli. La mostra del noto pittore modicano durerà fino al 10 dicembre ed è patrocinata dalla stessa Camera di Commercio di Ragusa che la ospita nei propri locali. Andrea Guastella, scrittore, nel recensire la mostra, sottolinea come Fratantonio in questa mostra rifugga da ogni schema preordinato, secondo un'attitudine evidente persino negli autori cui reca un sentito omaggio, che non potrebbero essere più distanti l'uno dall'altro. E così si trova all'Hopper in una stazione di servizio frequentata solo da fantasmi e il monè di un albero del suo giardino, che è come dire un artista, l'americano, dallo stile apparentemente fotografico, ma dal gesto pittorico autorevole sicuro. E' un pittore, il francese, che gareggiando con la foto e quasi cercando di eguagliarla realizza la pittura meno fotografica e più viva del suo secolo. Salvatore Fratantonio spiega poi che la vera novità di questa mostra sono le opere nelle quali le figure tagliano diagonalmente la composizione, colte nell'ora del tramonto le cui ombre si allungano, si stagliano a terra come sagome e il colore luminoso del terreno crea un forte contrasto tra la marcata semplificazione delle forme, che diventano essenziali e prive di dettaglio senza variazioni di tono e contrasti di colore. La mostra sarà inaugurata il prossimo 18 novembre alla Camcom di Ragusa alle 17.30. E ora allo sport, sesta sconfitta per l'Andrea Licitra Pallamano Ragusa che perde contro il Fondi. Il punteggio finale di 30-21 per gli ospiti. L'Andrea Licitra Pallamano Ragusa ha perso contro il Fondi. Si è trattato della sesta sconfitta consecutiva in Serie A1. Il punteggio finale è stato di 30-21 per il Fondi, anche se questo risultato non è stato lo specchio della reale prestazione della squadra ragusana. Il set allenato da Roberto Giuffrida ha evidenziato una forte sinergia e determinazione, impegnandosi con grinte in campo. I ragusani hanno adottato una buona difesa, anche se hanno commesso errori, per questo gli ospiti hanno piazzato molte reti. Inoltre l'Andrea Licitra Pallamano è stata penalizzata da 5 espulsioni per 2 minuti, oltre che da 11 tiri di rigore concesse agli avversari. Il presidente Giuseppe Giras ha commentato, nelle battute conclusive è stato concesso un poco di più e questo ha finito con il condizionare l'andamento della gara. Il gruppo ha dato vita a un'ottima prestazione dando il massimo in campo. Non ci volevano le espulsioni rigori contro, però è cambiato qualcosa nella nostra squadra e per questo siamo molto fiduciosi per il futuro. Nel prossimo turno il setterra gusano sarà in trasferta contro il conversano. Bene, con questo servizio è tutto, il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.